Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg di TV Siti in apertura, la cronaca, piano straordinario di controllo del territorio ad opera della Guardia di Finanza a Torre, annunziata controlli e sanzioni. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, la situazione resta stabile. Obbligo di mascherina all'aperto in campagna si va verso la proroga e attesa in queste ore la firma dell'ordinanza da parte del governatore Vincenzo De Luca. Torniamo a Torre del Greco, questa mattina la conferenza stampa di presentazione del ricco programma di October Sport, tanti eventi e appuntamenti sportivi nel mese di ottobre nella città di Torre del Greco. In chiusura lo sport ancora con la Turris, turno infrasettimanale per i Corallini che oggi pomeriggio giocano in trasferta contro il Catania, questo guardiamo i servizi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel quadro del monitoraggio dello stato della sicurezza nell'area urbana e metropolitana ha pianificato nei ultimi giorni diverse operazioni ad alto impatto nei rioni a maggiore densità criminale della città di Torre Annunziata. I controlli hanno riguardato il quartiere Peniniello, la zona centrale, piazza Sant'Alfonso, piazza Embriani, l'area portuale, via Terragneta, la zona sud e rione Poverelli. I baschi verdi del gruppo di Torre Annunziata, supportati dai colleghi del gruppo pronto impiego di Napoli e dalle unità cinofili della compagnia di Capodichino, hanno eseguito nell'ultima settimana 632 controlli a mezzi e persone, 45 le situazioni illecite e rilevate, tra denunce all'autorità giudiziaria e segnalazione alla prefettura per droga, violazione al codice della strada e abusivismo edilizio. In particolare è stata sottoposta al sequestro nel rione Carminiello, un'area di circa 300 metri quadri dove insistono 33 garage costruiti senza alcun permesso urbanistico, denunciati a altrettanti soggetti per abusivismo edilizio. Gli interventi rientrano nel quadro della costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio svolta dalle fiamme gialle partenopee, anche in sinergia con le altre forze di polizia, al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa nell'area di Torre Annunziata, che resta oggetto di massima attenzione da parte dell'autorità di governo e delle forze dell'ordine. Stabili i contagi nei comuni vesuviani. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono sei nuovi casi di positività certificati, di cui uno in regime ospedaliero. Sono invece cinque le guarigioni registrate. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 83 attualmente positivi, di cui 11 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata non si è registrato nessun nuovo caso di contagio a fronte di 92 tamponi processati. Non si registra neanche una guarigione. Sono 37 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 49.377. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.310, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.067. Obbligo di mascherina all'aperto in campagna. Si va verso la proroga. Scade domani 1 ottobre l'ordinanza regionale attualmente in vigore, che prevede l'obbligo di indossare su tutto il territorio regionale dispositivi di protezione in ogni luogo non isolato, come centri urbani, piazze e lungomari, nelle ore o in situazioni di affollamento. Quando si è in fila, si visitano mercati o fiere, si partecipa ai venti. Si attende un mezzo di trasporto, come un traghetto o una nave. Si attende in queste ore la firma del governatore Vincenzo De Luca. Le disposizioni sono conforme a quelle contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute attualmente in vigore. Intanto, secondo il bollettino regionale di ieri, positivi del giorno 316, test 17.150, deceduti 9 nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 19. Posti di degenza disponibili 3.160, di degenza occupati 241. Assessore Giuseppe Speranza, stamattina la presentazione di Oktober Sport. Un mese di ottobre all'insegna dello sport nella città di Torre del Greco. Tanti gli appuntamenti in programma. Ad iniziare da domenica prossima, domenica 3, avremo il Vesuvio Mountain Bike Race, una manifestazione a gara che parte da via sopra i Camaldoli e si concluderà nella struttura di Valle dell'Orso. Sarà una giornata piena perché è prevista la partenza intorno alle 9, la partecipazione di circa, se ho capito bene, 500 atleti. Impegna circa un migliaio di persone tra giudici di gara, collaboratori e staffettisti che praticamente interesseranno tutto il percorso che vada allo stradello all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio perché il percorso interesserà tutti i comuni vesuviani. Praticamente sarà una gara della durata di circa 4-5 ore. Un'attività molto entusiasmante, a dir la verità. Io è la prima volta che parteciperò e quest'anno addirittura anche da amministratore, quindi anche io sono entusiasta di ospitare questa manifestazione che a carattere nazionale vedrà l'arrivo di atleti da tutta Italia, se non addirittura dalla Svizzera e pare qualcuno anche dall'Austria. Poi si prosegue domenica 10 ottobre con il ciclo turistica dei due mari, Adriatico-Tirreno. Sì, ciclo turistica dei due mari coinvolge atleti provenienti da Manfredonia e da tutto il percorso, da Benevento a Vellino, quindi noi ospiteremo a Torre del Greco questa manifestazione che è una ciclo turistica. Perché ciclo turistica? Perché all'arrivo i partecipanti troveranno degli addetti ai lavori che li porteranno a far visita in alcuni luoghi della nostra città. In primis il Palazzo Baronale che è la nostra sede istituzionale. Qualche visita la faremo anche sicuramente in Santa Croce al nostro Santo Vincenzo Romano e qualche visita anche, credo, giù a Sant'Anna a visitare gli scavi archeologici che sono usiti all'interno della struttura. Quindi questi eventi sportivi saranno anche l'occasione per promuovere il territorio? Devono essere gli eventi sportivi un momento di promozione del territorio, un territorio che negli ultimi tempi è rimasto un pochettino, voglio dire, sconosciuto anche alla città per i noti motivi di lockdown che stiamo ancora in parte subendo e stiamo ancora in parte registrando. Quale migliore occasione per offrire agli stessi cittadini torresi e a chi viene da fuori questi momenti culturali che sono veramente interessanti. Un altro weekend all'insegna dello sport sarà quello di sabato 23 e domenica 24 con il Giro in Rosa della Campania. Perfetto, il Giro in Rosa della Campania prevede una due giorni. Giorno 23 Raduno al Sacura dove partirà la crono scalata per il Vesuvio. La riterrei una manifestazione dei due comuni perché coinvolge Torre del Glego ed Ercolano. Una manifestazione molto attesa già da tempo perché in qualche altra intervista l'abbiamo già preannunciata e quindi vede coinvolti tanti atleti, in particolar modo atlete in rosa. Giorno 24 avremo l'arrivo finale della tappa a Torre del Greco per poi dirigersi verso Grumo Nevano in pomeriggio. Colgo l'occasione per invitare la cittadinanza. Sarà un momento di condivisione e sarà un momento di occasione per tutti. Dopo la robuante vittoria per 4-1 contro la Vibonese, la Tourist di Mister Caneo si appresta ad affrontare la seconda trasferta consecutiva allo stadio Massimino di Catania. I corallini in questo inizio di stagione si sono rivelati essere squadra alla trasferta. Infatti i sette punti in classifica sono stati ottenuti tutti lontano da Torre del Greco con un pareggio e due vittorie sulle tre partite disputate. La trasferta siciliana, posticipo di questo turno infrasettimanale del girone C di Serie C, vede il rientro tra i pali del titolare Perina, assente per squalifica a Vibo Valencia, mentre potrebbe esserci riposo per Leonetti. I rossazzurri padroni di casa, allenati dall'ex Napoli Baldini, sono invece impelagati nei bassi fondi della classifica e il pari esterno nell'ultimo turno contro il Catanzaro non ha modificato la posizione degli etnei che si presentano al cospetto dei corallini con diverse assenze. Un risultato positivo proietterebbe la Tourist tra le grandi del girone sulla falsa riga dell'inizio della scorsa stagione in attesa di un cambio di rotta nelle partite a Liguori. Il fischio d'inizio è previsto alle 14.30 con diretta via streaming e sulla tv satellitare. Anche oggi si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione-tvcity.it o chiamando al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS